Ciao a tutti, questo video l'ho tenuto in sospeso ieri perché la replica della Fiorentina, la prima pagina di Tutto Sport tramite un contributo trasmesso sul proprio canale YouTube, beh, è stata una replica mica da ridere, un attacco frontale con la Fiorentina che fa notare che mettere soldi sul mercato, leggo, portare il proprio bilancio ad un rosso di 127 milioni non significa finanziare il calcio italiano, ma falsarlo. Non è giusto che club con un bilancio sano siano svantaggiati rispetto a chi ha un bilancio in perdita, ma nonostante questo si permettono di comprare giocatori con ingaggi esosi. Mettere delle false plusvalenze a bilancio, come confermato anche dalle sentenze, non vuol dire sostenere il sistema. Allora, innanzitutto c'è da mettere i puntini sulle i, perché ve l'ho già detto a più riprese nell'ultima sessione estiva, quando vi ho fatto umilmente notare come l'immobilismo della Juventus sul mercato in entrata Italia-Italia, quindi operazione nostrane, guarda caso poi ha portato l'intero sistema calcio Italia a non fare sostanzialmente mercato. Qualche pagherò, qualche opportunità quella ha, qualche free agent, ma moneta suonante, pochissima per non dire niente, nell'ultima sessione estiva. Quindi altri potranno anche sostenere che ci possano essere state delle plusvalenze gonfiate e quant'altro, ma innanzitutto si apre un campo davvero dove abbiamo capito concretamente come non possa esistere l'oggettività, o almeno finché non ci saranno delle normative che faranno chiarezza su cosa significhi a livello di calcio mercato, effettuare una plusvalenza, vale un po' tutto. Anche in questo caso la Juventus ha pagato per tutti, perché nella passata stagione ha subito anche degli attacchi pazzeschi. E, guarda caso, poi in questa stagione la Juve non fa parte di coloro che avrebbero dovuto giocare in Champions pur conquistando la terza piazza nello scorso campionato. Io ho sempre la sensazione che poi ci siano determinate piazze che prediligano attaccare la Juventus per portarsi da loro i tifosi. Sappiamo perfettamente come a Firenze quella di domani non sia una partita, ma è la partita che vale davvero una stagione. Ma non tanto per chi ha avuto modo di vedere Fiorentina, Juve, Artemio, Franchi, di vedere quanto sia appassionale, mettiamola così in questo match. Il popolo viola sa perfettamente che questa sia la partita, un appuntamento che non si può sbagliare mai nella vita. Però, tutto sport avrà fatto anche un titolo un po' pepato, ma è la più pura realtà. Cioè, dire che la Juventus abbia fatto fare figuroni alla Fiorentina in chiave cessioni e poi ti può forzare un titolo più o meno, ma la Juventus le ultime tre operazioni sono state onerosissime. Bernardeschi, operazione davvero onerosa. Federico Chiesa, operazione davvero onerosa. Dujan Vlaovic neanche a parlare. Cioè, la Juve ha speso tanto, ha versato tanti soldi nelle casse della Fiorentina. Poi si può disquisire sul fatto che gli affari, chi li ha fatti tra le due società? Su Bernardeschi, poi per il rendimento della mano, direi la Fiorentina, Chiesa, la Juve. E per quanto riguarda Vlaovic, per il momento è un giocatore che probabilmente si può pagare 80 milioni perché in quell'anno solare aveva fatto caterve di gol. E quindi evidentemente la Juve ha anche un po' pagato, andata oltre, il valore di quel calciatore e di ciò che poi potrebbe diventare. Perché magari un giorno Vlaovic varrà seriamente concretamente 80 milioni. Lì, in quel gennaio, la Juve aveva sentito necessità di prendere un numero 9 e ha cercato il migliore su piazza Serie A e in generale uno dei migliori su scala internazionale. Però dire che poi la Juventus abbia contribuito a consolidare le casse della Fiorentina è un'operazione oggettiva. Cioè, è un ragionamento che non è opinabile. È così. Poi, del proprio bilancio in rosso e quant'altro, credo che questi non siano problemi di terzi. Cioè, la Juve sa perfettamente quale sia la sua situazione. La Juve ha la fortuna di avere, e poi vi rimando al contributo di oggi pomeriggio, un azionista di maggioranza molto forte che sta pianificando questo aumento di capitale con un esborso già effettuato, una parte per un massimo di 200 milioni. Quindi, io credo che per vivere tranquilli ognuno debba guardare sempre in casa propria. Sempre e costantemente. Buttarle in cacciara, in chiacchiere da bar, solo per portarti la piazza dalla tua, lascia il tempo che trova. Però ho capito che magari questa possa essere stata un'operazione di comunicazione o non comunicazione studiata d'arte, considerando come domani si giochi questo match, che lo abbiamo detto, è il match per il popolo viola. Una partita molto importante anche per la Juventus, sai perché? La storia è storia, basti pensare a quel meravigliosissimo gol di Alessandro Del Piero, là dove poi nacque la leggenda. Ma onestamente ho trovato queste parole un po' forzate, un po' forzate e che soprattutto non producono uno sforzo in termini di ragionamento. La Juve, che piaccia o non piaccia, sostiene il sistema Calcio Italia con i suoi investimenti, ma non intendo solo quelli macro, come quando vai dare 80 milioni alla Fiorentina per nevlaovic, ma anche a livello di settore giovanile, quando fai affari in prospettiva. Però, ora abbiamo anche capito che magari effettuare delle operazioni sui giovani non significhi finanziare il calcio italiano, bensì mettere delle plusvalenze a bilancio, un po' così. Cioè, onestamente ragazzi, io certe parole faccio fatica a comprenderle, certe parole faccio fatica a comprenderle, anche perché, pur con i suoi limiti da Juventus spendendo, ha sempre fatto, ha sempre fatto un mercato, far fare un mercato anche alle altre. Certi atteggiamenti non li comprendo, specialmente da società con le quali hai fatto trattative e magari le farei in futuro, fino a ieri, le farei domani. Cioè, io dico sempre anche un'altra cosa, attenzione poi a ciò che viene dato in passo ai media, ai tifosi, perché poi molte volte le persone face to face hanno altri comportamenti, un po' come il tuo hater, che magari ti scrive le peggior cose nei commenti e poi ti becca live dal vivo una volta e cosa fa? Il coniglio ti chiede i selfie. Quindi, non lo so, mi sembra che questa nota attraverso il canale YouTube della Fiorentina sia servita unicamente per rendere un po' più pepato il match di domani, ma onestamente poi i problemi di bilancio della Juventus sono problemi di bilancio della Juventus e mettere il naso nelle cose altrui non è mai cosa buona e giusta.